La rivoluzione francese. Lo sconvolgimento sociale, politico e culturale francese. Parole chiave. Club, organizzazioni politiche. Rivoluzione, movimento di rinnovo. Ghigliottina, dispositivo per decapitare. Corvée, prestazione dovuta al feudatario. Confisca, espropriazione per lo Stato. Costituzione, documento di diritti e doveri. Censo, beni e ricchezze posseduti. A partire dalla rivoluzione francese da Napoleone, i frutti dei vari progetti di liberazione dell'umanità non hanno cessato di tradursi in oceani di sangue. Angela Pellicciari. La situazione in Francia. Luigi XVI manteneva la società in pieno sistema feudale. I nobili e il clero non pagavano tasse e sperperavano quelle versate dal terzo Stato. Le casse dello Stato erano vuote e la carestia affliggeva le campagne. Club dei Giacobini. È un'associazione politica fondata da Robespierre con il nome Società della Rivoluzione prima, Società degli Amici della Costituzione poi. Con l'instaurazione della Repubblica, il club prende il nome di Società dei Giacobini, Amici della Libertà e dell'Eguaglianza. Gli Stati Generali. Il 5 maggio 1789 Luigi XVI convoca gli Stati Generali per votare nuove tasse. Per testa o per ordine. I tre ceti si scontrano su come votare. Pro capite avvantaggia il terzo Stato. Per ordine avvantaggia nobiltà e clero. L'Assemblea Nazionale. Il 9 luglio 1789 i deputati del terzo Stato proclamano l'Assemblea Nazionale per dare alla Francia una Costituzione parlamentare. Il re scioglie l'Assemblea. Spaventato, il re richiama Versailles 2000 soldati per sciogliere l'Assemblea. La presa della Bastiglia. In reazione all'impiego dell'esercito, il 14 luglio 1789 il popolo assalta la prigione fortezza della Bastiglia. Lo scoppio della rivoluzione. I deputati instaurano la Guardia Nazionale, comandata dal Marchese Lafayette, per difendersi dai soldati del re e dal popolo. Fine del feudalesimo. Grande paura. I contadini, esasperati, assaltano e depredano castelli e monasteri. Corvè. Il 4 agosto, con un decreto, l'Assemblea abolisce i privilegi fiscali dei nobili e le decime ecclesiastiche. Dichiarazione dei diritti. Il 26 agosto 1789 i deputati scrivono la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, con molti principi ancora oggi validi. Manifestazione popolare. Siccome il re si rifiuta di firmare la Dichiarazione dei diritti, il 5 ottobre una manifestazione guidata da donne dei mercati parigini va versai. Costituzione civile del clero. L'Assemblea vara la Costituzione civile del clero, con cui lo Stato confisca i beni ecclesiastici e fa giurare ai preti fedeltà allo Stato. Costituzione francese. La Costituzione francese entra in vigore nel 1791, rendendo la Francia una monarchia costituzionale, con separazione dei poteri, il re giura fedeltà alla nazione, soppressione della censura, matrimonio civile e divorzio. Legge elettorale. Il principio di uguaglianza viene subito violato dalla legge elettorale che favoriva l'alta borghesia, essendo basato sul censo. I Sanculotti. D'Antone Marat guidano i parigini per ribellarsi contro questa legge basata sulla ricchezza. 1792. La Convenzione, una nuova assemblea, proclama la Repubblica. Luigi XVI nel 1793 è ghigliottinato e inizia il periodo del terrore di Robespierre, periodo in cui ogni opposizione ai rivoluzionari è punita con la violenza. 1795, una nuova costituzione affida il potere al direttorio, potere esecutivo di cinque rappresentanti. Per approfondimenti potete consultare i siti di Focus Junior, OVO Video, Storia Contemporanea. Spero vi sia piaciuto, in caso potete mettere like al video o seguire il canale. Alla prossima lezione.